Anne Arendt è una delle più grosse filosofi importanti del Novecento mondiale. Anne Arendt, di famiglia ebraica, tedesca, studia con Heidegger, avrà una relazione precoce con il suo maestro, dopodiché si laureerà con Karl Jaspers, diventerà una figura di primo piano della filosofia europea. Nel 1937 Anne Arendt lascia la Germania, si porta a Parigi, conosce e frequenta Walter Benjamin, siamo nei più grandi nomi del pensiero del Novecento. Negli anni Quaranta, con il suo marito, si sposta negli Stati Uniti, New York. Anne Arendt scriverà moltissimi libri, diventerà una grandissima maestra, sarà controversa, sarà discussa, ma insomma una delle più grandi figure della intelligenza del Novecento. Ci piace ricordarla, tuttavia, al di là dei suoi studi sul pluralismo e sul totalitarismo, per come fece la giornalista al processo di Gerusalemme, per conto della rivista americana New Yorker, al processo ad Eichmann. Anne Arendt assistette a tutte le sedute del processo e alla fine ne fece un resoconto. Lo tradusse in un libro che intitolò La banalità del male. Qui sta il problema. È possibile banalizzare il nazismo? È possibile dire che un uomo con l'imputazione di crimini contro l'umanità è banale? Anne Arendt tuttavia ci dice qualcosa di un po' diverso. Ci dice che il male è facilissimo da fare e ci dice un'altra cosa, molto controversa. Ciò che è successo, la Shoah, Auschwitz, forse non sono irripetibili. Perché se il male è così profondamente radicato nella stupidità degli uomini, forse è ripetibile. Ecco, questo messaggio ci mette in guardia. Primo Levi l'ha fatto proprio. I grandi della testimonianza di quell'epoca l'hanno fatto proprio. L'idea che si possa ripetere ciò che è successo è un'idea che ci induce a ragionare sempre e a non considerare completamente passata quell'epoca perché il pericolo è fra noi. Il nazionalismo e il razzismo hanno sempre in fondo il lager.